Ciao ragazzi e bentornati sul mio canale, oggi vi parlo delle mie creme mani preferite, breve breve video conciso, parto subito dalla prima crema mani che è della Omia, è una crema mani all'olio di Argan. La Omia è un brand che mi piace molto anche per quanto riguarda la cura dei capelli e del corpo, in quanto è un brand che non testa sugli animali, contiene 0% di siliconi, parabeni, oli minerali, coloranti sintetici ed è estremamente low cost, lo trovate in tutte le profumerie come idea bellezza, acqua e sapone, quindi davvero ottima scelta e questa crema mani con olio di Argan oltre ad essere profumata lascia davvero le mani idratatissime. Poi un'altra crema che adoro è la crema dell'erbolario alla violetta, eccola qui l'erbolario a cordo viola e diciamo che io adoro proprio l'erbolario come brand in generale ma questa crema è profumatissima di violetta, sembra proprio di avere i fiori tra le mani, io adoro i fiori e in più ha tanti ingredienti ottimi come l'olio di cotone, le ceramidi nel strato lipidico dai semi di soia, la cera di jojoba, la vitamina E, è davvero naturale e idratantissima. L'ultima crema che vi mostro in questo breve video è la crema di The Body Shop, non so se sapete che lavorava insieme a quelli della Lush e poi si sono separati, io l'adoravo quando vivo a Londra, l'ho trovato in generale in tutti i paesi dell'estero, dell'Europa, non so perché in Italia non si è ancora arrivato, credo che non ci sia neanche a Milano, vabbè se mi sbaglio scrivetemelo giù oppure cercherò su internet. Questa mi è stata regalata da una mia amica che vive a Bruxelles e è la crema Frosted Cranberry e sarebbero i mirtilli rossi credo. Anche questa crema è profumatissima, odora proprio di ciliegia, di mirtilli, idratantissima, la potete portare in borsetto perché è un formato super piccolo, conveniente. E tra gli ingredienti ottimi troviamo olio di mandorle, olio di soia, olio ovviamente di mirtilli rossi che è poi l'ingrediente della crema, e burro di karité e ovviamente glicerina molto idratante. Quindi ragazze queste sono le mie top creme mani che ho sul comodino a fianco al letto e ad alternanza ne metto una e mi sveglio la mattina con le mani morbidissime senza problemi di pellicina e ovviamente previene anche l'invecchiamento. Spero che questo video vi sia piaciuto come sempre, grazie per aver guardato, datemi un like se avete apprezzato il video, condividetelo sui vostri social perché no e seguitemi sugli altri social di cui vi metto tutti i link alla fine del video, comunque mi trovate con lo stesso nome del canale. Ci vediamo al prossimo video, ciao!